Il vicepresidente vicario del Consiglio regionale, Lucrezio Paolini, oggi dice ufficialmente addio all'IDV, che ha scelto una strada diversa appoggiando il centrodestra e comunque la scelta di Fabrizio Di Stefano. Lei resta nell'alveo del centrosinistra e auspica la candidatura di Giovanni Legnini come candidato presidente del centrosinistra. Diciamo che la notizia fondamentale è che io sono disposto ad una ricandidatura soltanto a sostegno di un candidato che ha il nome e il cognome di Giovanni Legnini. A queste condizioni io sono assolutamente disposto ad una ricandidatura. Quello che hanno fatto e faranno gli altri a sostegno di non so chi, oggi mi interessa relativamente. Mi interessa l'idea e il progetto di portare soluzioni alla nostra regione. Ritengo che questo si possa fare con l'autorevolezza di Giovanni Legnini e per questo io mi voglio spendere cercando di trovare le condizioni per far nascere qualcosa di nuovo e superando quello che è stato detto anche da Giovanni Legnini, gli steccati ideologici e di partito e utilizzando le menti migliori della nostra regione che oggi ha bisogno di una nuova ripartenza e credo che questa nuova ripartenza possa essere sviluppata, perfezionata soltanto con Giovanni Legnini. In un bilanciamento delle esigenze e dei risultati il governo che ha cessato le sue funzioni ha realizzato tantissime cose e di pregio. Cambiare non significa bocciare, cambiare significa fare un passo oltre.